Tutta la mia vita è stata un preludio alla conoscenza che otterrò oggi. Ma chi è? Che cosa vuole? Oh, scendi, ridurro i pezzi. Proprio. La gioia del massacro, il sollievo, l'infinita estasi di versare sangue altrui. La porta è chiusa! Sono a scherzo! La porta è giù! Entrerò in un attimo. Ora non avete più scampo. Apriamo questa cavolo di porta! Una chiave per accedere a nuovi pericoli. La gioia del massacro, il sollievo, l'infinita estasi di versare sangue altrui. Devo aspettare ancora! Andiamo! Non avremo ancora un attimo! Questo era solo l'inizio. Inizio la prossima fase del test. Diamo un'occhiata! I vostri occhi e cuori non sono forse fatti per essere strappati via? Interessante! Ho una teoria! Fallo di nuovo! Così non va bene! Ci penso io! Tutto bene! Presto ce la farai! Deve esserci qualcosa di utile qui! Mi troverò e ti ammazzerò! Ci rispetto è vicina! Ascogli! Di vero! переffita! Passate! Boo! La 2050 l'eara vedo ilainità. È gilide il lungo! Sono nuovo. Voi non potete nulla contro la mia forza. Cerco di vedere qualcosa. Questa guardia non ha seguito l'ultimo, ma ha ancora uno scopo. Ho altre sfide per voi. I vostri occhi e cuori non sono per sé fatti per essere strappati via. Avvicinatevi e vi curerò. Avrete lo nome del servizio ad apelare il conto di un nuovo progetto di ricerca. Così non va bene. Mi servono quelle cose. Le pallottole. Mi servono delle pallottole. La gioia del massacro. Il sollevo. Infinita estasi di versare sangue altrui. Sta surriscaldando. Perfetto. Non finiremo nei guai per questo. Spero. Controllo. Vi troverò e vi ammazzerò. Perché non siete già morti tutti? I vostri occhi e cuori non sono forse fatti per essere strappati via? Perfetto. Arma a scarica. Aiuto. Mi sento uno straccio. Fraquenza cardiaca e pressione elevate. Ma non ci sono picchi di adrenalina rilevanti. Perfetto. Deve esserci qualcosa di utile qui. Prendi. Caricatore vuoto! Perfetto. I vostri occhi e cuori non sono forse fatti per essere strappati via? No. Cerco di venire qualcosa. Ho fatto affatto molto bene. Non sono forse fatti. Non sono forse fatti. Un po' di morire. Grazie. Non tanto. Un'infezione sta aumentando. Raduniamoci e curiamoci. Corso. Grazie a tutti. La delusione potrebbe influenzare l'efficacia del virus. Come lo sentite? La mia pazienza ha un limite. Non ci siamo. Cerco di vedere qualcosa. La mia pazienza ha un limite. 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 E' un limite. Sì. Ora non avete più scampo. Vai così. Ora si ragiona. La posto è tuo. Voi non potete nulla contro la mia forza. Serve solo la giusta pressione. La gioia del passato, il sollievo, l'infinita estasi di versare sangue altrui. Deve esserci qualcosa di utile qui. Ci penso io. State tutti, Rari? La vostra vita è sicura. Tutta la grande! Chi è stato? Ci penso io. Cerco di vedere qualcosa. Visto che cosa può donarci la scienza, perché vi imponete ancora? Tutta la scienza? Tutta la scienza? Tutta la scienza? Cosa di imbalance? Sì, è qui l'altra parte. Sì! Siete stati incredibili là dentro. Dei veri... È stato il virus? È così che ce l'avete fatta? Devo saperlo.